Pescara al centro, un consorzio di commercianti della città di Pescara, nato pochi giorni fa. Qual è l'obiettivo canale? L'obiettivo innanzitutto è fare rete. Oggi come oggi la sfida più importante, che non bisogna assolutamente temere, è proprio quella di aggregazione, di coesione e di fare rete. Perché è l'unico modo che hanno le attività commerciali per superare questo momento particolarmente difficile. Il consorzio come scopo, oltre a questo, ha quello di cercare sempre più una collaborazione con l'amministrazione comunale per impegnarsi per rendere al massimo un servizio alla città. Cioè per cercare di far ripartire Pescara in tutti gli aspetti commerciali, turistici, enogastronomici, tutti gli aspetti fondamentali per far sì che Pescara finalmente diventi una città turistica di pregio. Sarà un'estate diversa dalle altre, ci saranno meno eventi. Ma parlando proprio dell'amministrazione comunale, alcune iniziative che sono state proposte proprio dall'Aggiunta di Pescara hanno trovato il vostro favore. Siete d'accordo con quello che il Comune di Pescara sta cercando di fare per ravvivare soprattutto la zona centrale della città? Ovviamente questa sarà una stagione particolare, nel senso che non si possono organizzare grandi manifestazioni, grandi eventi. C'è il discorso delle aperture serali, è un qualcosa che va secondo me ancora un attimo strutturato, rivisto e organizzato forse con dei tempi un pochettino più ampi. Puntate molto sulla stagione dei saldi? Sì, puntiamo molto, anche se dal problema Covid abbiamo avuto comunque uno spostamento dalla data di saldi che per molti noi commercianti è un bene, perché è da tanto tempo che chiediamo che i saldi tornino ad avere le date di una volta, perché purtroppo in una città di mare iniziare i saldi il 7 luglio, quando inizia la stagione estiva e si iniziano a vedere i primi turisti, ormai non sono più saldi di fine stagione, ma sono saldi di inizio stagione.